...diante alla trasmissione su web tv e sul canale satellitare e naturalmente come da regolamento i colleghi possono partecipare all'audizione anche da remoto. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colau, nell'ambito del percorso di ratifica del Trattato del Quirinale e per informazione del Ministro noi abbiamo gestito la ratifica del Trattato in modo un po' più ovviamente attento rispetto alle tradizionali ratifiche e abbiamo messo in essere un percorso di audizioni con tutti i principali Ministri, quindi sono tutti Di Maio, Guerini, Giorgetti, Brunetta, non ricordo più che tutti, Cingolani e lei, quindi i principali capitoli diciamo del Trattato Quirinale. Ieri abbiamo avuto anche il Presidente della Commissione Estre dell'Assemblea Nazionale Francese, Bourlange, che ci ha portato ovviamente il loro punto di vista. Questa è la sua, è la ultima audizione. La prossima settimana noi ratificheremo in Commissione il Trattato e lo portiamo in aula il 23 di maggio e quindi entro maggio l'abbiamo fatto. Andrà al Senato dove l'Iter presumo sarà più breve perché non credo ci saranno tutte le audizioni che abbiamo già fatto noi. Quindi presumo che entro giugno avremo ratificato, che corrisponde con i tempi del Parlamento francese che è sotto elezioni e che quindi subito dopo lo ratificherà avendo peraltro loro procedure molto più semplificate rispetto alle nostre. La ringrazio molto di aver raccolto il nostro invito, ringrazio il Dottor Firpo con il quale abbiamo comuni ascendenze turinesi e ringrazio la Consigliera Fancello. Credo che possiamo immediatamente dare inizio all'audizione ricordando che l'articolo 5 del Trattato riconosce ovviamente tra i vari punti indicati nel Trattato del Quirinale vi è anche tutto il tema della cooperazione in settori strategici per il raggiungimento di tale obiettivo quali nuove tecnologie, ciber sicurezza, cloud, intelligenza artificiale, condivisione dei dati, connettività 5G, 6G, digitalizzazione e quantistica. Tutti i temi che sono ovviamente oggetto della deleghe delle competenze del Ministro. Per questo siamo ovviamente molto interessati a conoscere il suo punto di vista. La ringrazio ancora di essere qui e le do la parola. Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati, vi ringrazio innanzitutto per questa opportunità di confronto sul Trattato del Quirinale. Vorrei iniziare con un'illustazione per sommi capi degli obiettivi del Trattato e poi concentrarmi sulla cooperazione del settore spazio specificamente che è uno dei capitoli credo più qualificanti dell'accordo di cooperazione e che ricade nella mia competenza ministeriale. In generale il Trattato ha due obiettivi, uno di breve periodo teso a consolidare i rapporti economici e commerciali tra Italia e Francia e uno di più lungo orientato a costruire una roadmap di più intensa collaborazione istituzionale per rafforzare la posizione dei due Paesi nel contesto dell'Unione. Nell'immediato, il primo obiettivo, il Trattato mira a consolidare i rapporti commerciali di cooperazione tra Italia e Francia. I due Paesi hanno già una consolidata relazione economica. Ricordo alcuni dati. Le fediere industriali italiane e francesi sono già strettamente integrate in molti settori, automobilistico, farmaceutico, microelettronica, l'aerospazio, che è quello che seguo io, l'agroalimentare e la moda. Abbiamo 3.000 aziende francesi attive in Italia e 1.700 imprese italiane attive in Francia. L'intescambio ha raggiunto 90 miliardi. Sugli investimenti, gli investimenti francesi in Italia hanno uno stock di valore di 88 miliardi, mentre il principale destinatario di investimenti italiani in Europa ha uno stock di circa 43 miliardi. Ci sono aziende fortemente integrate, con dei veri e propri player importanti nella manifattura, di nuovo nel settore più vicino ST, Microelectronics, altri come Silor Lux Optica e Stellantis, seppur non vicini, hanno comunque delle componenti tecnologiche importanti. E poi c'è il campo spaziale, in cui le integrazioni e collaborazioni delle aziende italiane sono, come sappiamo, molto significative. La più importante è la Space Alliance. La Space Alliance è nata nel 2005 con due joint venture sorelle, quindi a percentuali di partecipazioni invertite tra i due gruppi principali industriali in Italia e in Francia, da una parte Talès e dall'altra Leonardo. Questa alleanza, come sappiamo, è fondata su basi industriali molto solide nella produzione e gestione a terra di complessi sistemi orbitali. Talès a linea Space Italia ha Leonardo al 33% e Talès al 67%, Telespazio che ha Leonardo al 67% e Talès al 33%. Queste sono eccellenze assolute nella produzione di complessi sistemi e moduli orbitali nei diversi sistemi satellitari, radar, ottici, infrarossi di telecomunicazione e di navigazione e anche ovviamente nel segmento dei servizi a terra. Un'altra area di strettissima e consolidata collaborazione industriale è quella, di nuovo nell'area che seguo, tra Ariane Group e Avio, nei sistemi invece di trasporto spaziale. Sotto legge dell'ESA, della European Space Agency, i due gruppi collaborano nella produzione e nello sviluppo coordinato ed interdipendente, appunto su cui torneremo, dei due lanciatori made in Europe. Quello di grandi dimensioni, che è Ariane e tutte le varie evoluzioni di Ariane, e quello di medio-piccola dimensione, che è Vega, su cui basiamo su questi due sistemi, l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio. Il trattato riconosce l'importanza di questa relazione politico-economica e, devo dire, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, rappresenta un significativo salto di qualità, perché espande ulteriormente i legami economici e industriali tra i due Paesi, con particolare riferimento ai settori della transizione ambientale e digitale, in cui lo spazio, di nuovo, gioca un ruolo importante e favorisce un avvicinamento in chiave di alleanze europeiste su importanti dossier di politica industriale, di ricerca, di istruzione, di politica di bilancio, con una particolare attenzione alla dimensione esterna delle politiche dell'Unione, quindi affari esteri, sicurezza e difesa, politica migratoria e d'asilo. Tra le numerose aree di cooperazione attaccate dal trattato, come ho detto, ci sono temi che ricadono molto chiaramente sotto il mio mandato ministeriale, in particolare lo spazio e l'innovazione digitale, al cui interno poi comprendiamo il cloud, l'intelligenza artificiale, la connettività e, diciamo, le tecnologie di comunicazione, oggi 5G e domani 6G. E quindi in questa occasione vorrei focalizzarmi sugli ambiti dove è possibile stabilire una più intensificata collaborazione italo-francesi in materia di spazio, che è appunto, come ho detto, l'obiettivo del trattato. In questo ambito, nello spazio, non solo viene riconosciuto nel dominio spazio una dimensione chiave dell'autonomia strategica europea, ma si individua anche elementi di più stretta collaborazione italo-francesi come una leva imprescindibile per la costruzione di una più ampia Europa dello spazio. E qui ricordiamo che senza Italia e Francia, e poi tutte le competenze industriali di ricerca che sono associate, il settore dello spazio in Europa sarebbe sostanzialmente poca cosa, perché Italia e Francia rappresentano i due pilastri del sistema spaziale europeo. Il trattato riconosce quindi una valenza strategica al settore per i due Paesi, proprio perché ha anche una valenza per la competitività europea. E al tempo stesso offre una inedita e particolare cornice istituzionale che dà l'Infa a una rinnovata collaborazione a più ampio spettro industriale di ricerca e di sicurezza. E nel trattato di nuovo vengono presi impegni, impegni a favorire un più stretto coordinamento e armonizzazione delle strategie spaziali con riguardo a cinque campi. Allora, l'esplorazione, l'osservazione della Terra, lo sviluppo di sistemi satellitari e dei segmenti terrestri e infine quello dei lanciatori, che è uno dei temi chiave. Il trattato proprio sui lanciatori focalizza molta della sua attenzione. In primis, non per sostenere il principio di una preferenza europea sui lanci. Cosa vuol dire questo? Vuol dire garantire che i lanci delle costellazioni europee, ma quindi anche delle costellazioni nazionali, avvengano utilizzando in priorità i lanciatori europei. Quindi dare una priorità chiara all'industria europea all'interno del mondo dei lanci. E qui va la pena di ricordare che la domanda dei lanci è cruciale per sostenere lo sforzo congiunto. Quindi non solo per lo sforzo congiunto italo-francese, ma anche per il coinvolgimento di tutti gli Stati membri sotto legida dell'ESA per poter sviluppare i nostri lanciatori istituzionali, quello francese Ariane, quello italiano Vega. Però il trattato va oltre, dà anche voce e sostanza la volontà di proseguire il cammino di collaborazione italo-francese nei sistemi di accesso allo spazio, intensificando anche la collaborazione di tutti gli sviluppi e le rivoluzioni tecnologiche dei vari lanciatori che vengono fatti in Europa e questo è un punto fondamentale su cui voglio tornare. Poi, infine, il trattato sempre in area di lanciatori afferma la volontà di parte di rafforzare la base europea di lancio di Curu in una prospettiva di renderla più competitiva e anche più aperta. Il trattato quindi in sintesi ha il pregio di cogliere l'importanza degli aspetti storici e degli intensi rapporti economici che ci sono tra Italia e Francia in ambito spaziale, ma di dare anche una prospettiva condivisa di rilancio, di rafforzamento su cui lavorare assieme. Il trattato nella sua stesura si soffermava lungamente sulla necessità di un rilancio della collaborazione dei lanciatori e quindi Italia e Francia noi abbiamo voluto dare una più concreta indicazione delle linee operative lungo le quali questa collaborazione poteva strutturarsi. Quindi simbolicamente in occasione della firma del trattato equirinale Italia e Francia hanno siglato anche una dichiarazione congiunta proprio su questa materia che ho appena descritto che è quella dei lanciatori. Questa dichiarazione è stata sottoscritta da me con il ministro francese Bruno Le Maire ed è il frutto del lavoro di un gruppo che abbiamo costituito di alto livello italo-francese che abbiamo di nuovo congiuntamente deciso di creare col ministro Le Maire praticamente subito dopo la ricezione da parte mia delle deleghe spaziali a settembre. Quindi abbiamo lavorato per tre mesi piuttosto intensi e siamo giunti a una intesa operativa per consolidare la collaborazione storica che Italia e Francia hanno nell'area dei lanciatori costruita attorno allo sviluppo della futura generazione di lanciatori. Qui parliamo di Arian 6 per la parte francese e di Vega C e Vega E che in misura coordinata devono promuovere la competitività dell'intero sistema in uno scenario globale che è, come probabilmente tutti sapete, piuttosto sfidante nel segmento dei lanciatori. Qui vale la pena ricordare che i lanciatori sono un segmento che sta veramente evolvendo in maniera tumultuosa. Ci è stato il fatto degli ultimi anni e il fatto del lancio di queste mega costellazioni di comunicazione satellitare che sono tra l'altro diventate anche molto visibili recentemente a causa della situazione in Ucraina. Queste costellazioni sono costituite da oggi centinaia ma in prospettiva migliaia di satelliti in orbita bassa, quindi nell'orbita più vicina alla Terra, che hanno due caratteristiche che rispetto al passato sono di grande cambiamento. La prima è che sono entrati in questo mercato dei soggetti che operano in condizioni, diciamo, privati, che operano in condizioni molto favorevoli, diciamo forse anche addirittura di condizioni captive nel loro mercato interno avendo dei sussidi molto forti, oltre che anche, devo dire, delle capacità operative piuttosto notevoli. E poi la forte evoluzione tecnologica che ha avuto dei importanti sviluppi nella propulsione che è passata o sta passando da solido a liquido e questo permette di riutilizzare i componenti significativi del lanciatore. Quindi il combinato disposto di nuovi soggetti diciamo un po' sussidiati e il fatto che questi soggetti hanno delle grandi capacità operative e tecnologiche e che li hanno portati a usare combustibile, liquido e quindi la riutilizzabilità dei componenti porta a una riduzione di costi e quindi anche a un aumento di frequenza di lanci. Tutto questo ha cambiato molto lo scenario e quindi per mantenere la nostra autonomia in questo settore sono necessari nuovi investimenti che potenzino tecnologicamente ma anche competitivamente entrambe le famiglie di lanciatori, la famiglia Ariane e la famiglia Vega. Questo si può fare sostanzialmente lungo tre direttrici. La prima è proseguire la collaborazione industriale con i francesi su Ariane sulla propulsione solida che si è costruita mantenendo in Italia una capacità autonoma di sviluppo sistemico del lanciatore Vega ma condividendo al tempo stesso con i francesi forti elementi di integrazione attraverso uno sviluppo congiunto dei componenti strategici come i booster del motore P120 che sono usati da Ariane 5 e Ariane 6. Quindi oltre a questa prosecuzione e rafforzamento della collaborazione abbiamo dovuto anche però rilanciare questa collaborazione che è stata di successo nella propulsione solida anche nei nuovi sistemi di propulsione a liquido e nelle tecnologie che sono funzionali alla riutilizzabilità dei lanciatori evitando il rischio di avere due strade divergenti Italia e Francia, duplicare gli investimenti quindi farli da due parti per lo stesso obiettivo e creare poi delle roadmap che sarebbero state non solo sovrapposte ma anche fondamentalmente in concorrenza tra loro. E quindi abbiamo dovuto trovare nuove sinergie e complementarietà proprio nello sviluppo alla propulsione a liquido e nella riusabilità grazie a alcune ottimizzazioni industriali tra i nostri due paesi e a un rafforzamento della collaborazione su programmi finanziati da ESA. Qui voglio evidenziare come l'accordo di collaborazione con i partner francesi sia a sostegno della competitività di tutti e due i sistemi sia di Ariane sia di Vega e che restano entrambi con i rispettivi posizionamenti di mercato i pilastri dell'accesso autonomo europeo allo spazio. Infine l'accordo prevede lo sblocco di alcuni nodi negoziali tra le industrie e l'investimento congiunto in nuovi sviluppi tecnologici che consentiranno di posizionare Ariane nel mercato emergente delle mega constellazioni. In particolare vorrei evidenziare come questa impostazione strategica sia risultata corretta grazie anche una prima conferma. Il 5 aprile è stato firmato un contratto tra Amazon ed Ariane Space per 18 lanci del vettore Ariane 6 per la messa in orbita della costellazione delle comunicazioni satellitari del progetto Kuiper che è il progetto di lanciare 18 lanci di cui 16 saranno fatti con una versione potenziata del motore italiano a propollente solido che è il P120C Plus che è appunto sviluppato dall'industria italiana e oggetto di un comune investimento italo-francese che è stato sbloccato grazie a questo accordo, a questa dichiarazione congiunta che abbiamo firmato in preparazione all'annuncio del Trattato del Quirinale. Un'altra area importante a cui personalmente tengo molto di questo accordo riguarda il settore dell'osservazione della terra. Annessa alla dichiarazione vi è un ulteriore documento dove viene riconosciuta l'ambizione e di forti investimenti dell'Italia nei sistemi satellitari e di osservazione della terra che sono parte del nostro PNRR. Questo annesso è stato importante, importantissimo per ottenere il pieno consenso da parte della Francia sull'affidamento da parte dell'Italia a ESA come soggetto attuatore stazione appaltante del nostro programma italiano di sviluppo delle competenze tecnologiche nel campo della produzione liquida ma soprattutto in quello dell'osservazione della terra su cui vorrei soffermarmi. Questa è una cosa importante perché con il nostro PNRR abbiamo deciso di raddoppiare l'investimento italiano nel settore dello spazio. Ricordo i numeri il budget italiano poteva già contare su 2 miliardi di finanziamenti del piano pluriennale dell'ASI, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Questo è stato sbloccato da noi a fine 2021 con il DPCM che ha assegnato le risorse ad ASI. C'erano anche 300 milioni per la quota della partecipazione italiana al programma Artemis con la NASA che abbiamo rifinanziato. Però a questo budget abbiamo aggiunto circa 2,3 miliardi del PNRR. Uno e mezzo sono da parte del recovery fund europeo, 800 milioni dal fondo complementare. Quindi questo investimento totale è improvvisamente diventato di 4,6 miliardi e questo ci consente di imprimere una grande spinta a un'ambizione rinnovata italiana sullo spazio su quattro direttrici. La prima è un investimento in comunicazioni satellitari sicure, quelle che si chiamano SATCOM, che ci consente di riposizionare l'Italia in quest'ambito partecipando con un ruolo significativo alle iniziative europee di GovSATCOM e di Secure Connectivity. La seconda, che appunto mi sta molto a cuore, è l'obiettivo di raggiungere una leadership europea nel campo dell'osservazione della terra. Qui prevediamo di investire oltre un miliardo di euro del PNRR abilitando tutta una serie di servizi a terra a favore sia della domanda istituzionale ma anche, molto importante, dello sviluppo commerciale di mercato. La terza è una maggiore capacità di investimento nei sistemi di accesso allo spazio, quindi quello dei lanciatori di cui parlavamo prima, sollecitati dal forte avanzamento tecnologico che interessa questo settore. E la quarta, un'ambizione più forte nei cosiddetti servizi in orbita. Questi sono i servizi che servono fondamentalmente per gestire questa messe di satelliti che saranno presenti nello spazio, come dicevo prima, e che nel tempo avranno bisogno non solo di manutenzione ma anche di refueling, di riposizionamento di tutta una serie di servizi importanti. Poi, ovviamente, abbiamo il tema della fornitura dei moduli per l'occupazione dello spazio in orbita bassa, lo spazio cislunare che è importante per appunto i programmi di sviluppo dello sfruttamento della Luna e qui di nuovo rientra anche l'elemento di collaborazione con la NASA sul programma Artemis. Quindi improvvisamente abbiamo una grande capacità di investimento ma anche una ambizione strategica di meglio coprire settori dove, a parte i lanciatori, tradizionalmente eravamo un po' meno leader. Alcuni di questi progetti, in particolare quelli di osservazione della Terra e di accesso allo spazio, abbiamo valutato che potevano essere condotti più efficacemente attraverso una più stretta collaborazione tra le due agenzie incaricate, l'ASI italiana e l'ESA europea. Il PNRR qui ha scadenze abbastanza rigorose, dobbiamo completare tutti i bandi entro il marzo del 2023, abbiamo quindi valutato che l'ASI da sola non potesse gestire questa mole di lavoro che su alcuni progetti dove la collaborazione europea è importante. Quindi fosse essenziale da un lato ingaggiare l'ESA per attuare alcuni progetti e dall'altro focalizzare l'ASI, l'agenzia italiana, su alcuni di maggiori importanza strategica e industriale. Quindi l'ASI in particolare l'abbiamo focalizzata sulla cosiddetta Space Factory 4.0, cioè le fabbriche intelligenti indirizzate alla produzione di piccoli satelliti, sullo sviluppo di un sistema duale di comunicazioni satellitari sicure, quello già citato a Satcom, sulle in orbite economiche che ho descritto prima per il rafforzamento della capacità nazionale di sorveglianza dello spazio e del servicing in orbita e abbiamo deciso di anche potenziare il centro di Matera, lo Space Center di Matera che estende gli investimenti italiani anche al mezzogiorno. Quindi focalizzare l'ASI su queste quattro aree che sono importanti ma molto importanti per il sistema industriale italiano e poi d'altro canto invece affidare all'Agenzia Spaziale Europea, seppur in collaborazione con ASI, lo sviluppo operativo dei programmi sui lanciatori che tra l'altro l'ESA ha sempre storicamente gestito e sul programma dell'osservazione della Terra dove la possibilità di utilizzare l'ESA per costruire poi una collaborazione più ampia a livello europeo ci è parso un elemento qualificante. Nei lanciatori ci siamo quindi impegnati per lo sviluppo e il test in orbita di nuove tecnologie di propulsione. Mi fa piacere ricordare qui in commossione che c'è stato il primo test del motore M10 a propulsione liquida metano-ossigeno che si è recentemente concluso con successo in Sardegna e poi lo sviluppo di un nuovo motore green ad alta spinta per le prossime generazioni di lanciatori. La linea di intervento sull'eservazione della Terra è quella invece, se volete, più strategica per il lungo termine è uno dei settori più promettenti per i margini di sviluppo, per la fornitura dei servizi istituzionali ma soprattutto per, come ho già detto prima, l'innovazione commerciale applicata. È poi un programma che per la sua ambizione strategica e anche per la sua dimensione è declinabile in una cornice che è di fatto solo europea, non si potrebbe declinarlo in una cornice puramente italiana e con questo possiamo anche ricercare partnership indispensabili con altri paesi europei e, diciamo, estenderla poi nel tempo mano a mano che altri paesi avranno interesse a investire in quest'area. Infine c'è la dimensione privata, quindi aziende, ricerca scientifica a livello nazionale europeo ma potenzialmente anche internazionale, di nuovo l'osservazione della Terra è l'area dove è più facile creare, diciamo, nuove aggregazioni. Con questo quadro credo che vi ho dato l'idea di come da una parte stiamo rafforzando molto la profondità dello sforzo italiano sull'industria italiana in alcune aree ma dall'altra anche aprendo una rete di possibili alleanze soprattutto sulla parte dell'osservazione della Terra a livello a livello internazionale che, diciamo, miri a sfruttare sia le forze del nostro sistema industriale ma anche l'attrattività di grosso investimento che col PNRR stiamo facendo. Per sostenere l'industria aerospaziale nazionale è anche importante e sarà molto importante continuare ad investire sulla creazione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze del settore. Qui si tratta di favorire, è più una cosa italiana interna ovviamente, di favorire i trasferimenti tecnologici, intensificare i rapporti di filiera tra le piccole e medie imprese e le start-up innovative e incentivare co-investimenti pubblico-privati e partnership commerciali. Anche qua una piccola parte del PNRR, ma questo non riguarda l'accordo con la Francia, verrà dedicata a questo. Concludo citando, perché torno oggi, ieri sera, dal G7 Digitale, l'ultima sfida che ci vede impegnati su questo fronte, che è quella della cyber security. Credo che lo abbia ricordato il Ministro Guerini, proprio in questa commissione. Il settore dello spazio è caratterizzato da tecnologie intrinsecamente duali e quindi è diventato una dimensione abilitante per tutti i domini operativi della difesa, terra-mare, aria e cyber. Sono tecnologie che rappresentano la spina dorsale delle comunicazioni strategiche, dei servizi di posizionamento, della navigazione e della sincronizzazione di tutti i nostri oggetti. queste tecnologie necessitano di protezioni molto forti, che tengono conto anche delle minacce alla sicurezza che nello spazio evolvono molto rapidamente. Quindi diventando più asimmetriche, anche più indefinite, provenendo da attori non necessariamente e non sempre identificabili con singoli stati, anche questa dimensione deve entrare a far parte dei nostri, diciamo, piani di cooperazione con tutti i partner e, in questo caso, la Francia. Quindi concludo. In questo scenario abbiamo inserito la firma del Trattato Equirinale e la firma dell'accordo specifico sullo spazio. Abbiamo l'ambizione di usare lo spazio anche come framework ideale per confermare il ruolo di protagonista d'Italia e di Francia, sia nella definizione delle politiche spaziali in avanti europeo, quanto nella loro attuazione in seno all'Agenzia Spaziale Europea. Qui c'è una importante scadenza a fine 2022, c'è la ministeriale che darà luogo, diciamo, alla concretezza degli impegni generali, quindi non di quelli italo-francesi, ma di quelli italo-francesi nel contesto più generale e, francamente, anche gli impegni finanziari per questa rinnovata collaborazione. E posso preannunciare, non credo che sia, diciamo, è quasi ovvio, che l'obiettivo qua sarà di tutelare la competitività delle nostre imprese e di tutta la filiera, di rafforzare la sovranità tecnologica, nei limiti ovviamente di quello che è possibile e di quello che è anche auspicabile in termini di cooperazione internazionale, e soprattutto di avere nel tempo una piena autonomia strategica dell'Europa nello spazio in un contesto geopolitico che non devo descrivere qua, ma che ovviamente è sempre più sfidante. Questo è il riassunto di come lo spazio entra, direi, in prima battuta nel Trattato del Quirinale, nella cooperazione tra Italia e Francia, ma anche più in generale nel quadro europeo e nelle ambizioni da una parte e nelle necessità dall'altra di rafforzarci in questo settore. Bene, ringrazio molto. È una relazione molto dettagliata e di merito, quindi grazie davvero di queste informazioni. Adesso ci sono colleghi che desiderano intervenire da remoto. Per ora non vedo richiesta, allora vorrei chiedere sempre sotto il profilo del Trattato del Quirinale, naturalmente. Invece qual è il tipo di collaborazione che noi ipotizziamo su intelligenza artificiale e digitalizzazione, che sono gli altri due, diciamo, grossi settori di competenza del Ministero. In parte tutta la partita digitalizzazione batte anche sulla pubblica amministrazione e di fatti Brunetta ne ha parlato qui nell'audizione. Però è interessante sapere anche su un'informazione anche da lei. Allora, su digitalizzazione, diciamo, sappiamo che il governo francese sta cambiando. I contatti si sono limitati per, diciamo, il periodo, per l'ultimo anno. Si sono limitati francamente a uno scambio di informazioni su dove siamo rispetto a, diciamo, i grandi progetti europei. Quindi, da una parte abbiamo avuto un'intensa e devo dire anche molto positiva collaborazione sulla stesura e l'approvazione dei grandi atti europei, il Digital Market Act, il Digital Service Act e stiamo collaborando, la consigliera Francello è qua in Commissione, sulla definizione dei prossimi. Quindi l'Artificial Intelligence Act, il Data Governance, il Data Act e direi questo è il filone. C'è poi tutto il filone, se volete, della cyber security che ho citato perché è molto importante. Quello ha un canale leggermente diverso, però anche su quello abbiamo una collaborazione. Devo dire che rispetto alla Francia ci troviamo, direi, quasi sempre quasi sulle stesse posizioni. Abbiamo una forte esigenza di tutelare l'autonomia strategica europea senza però rendere impossibile, per essere molto pratici alle aziende dei nostri paesi, di utilizzare le migliori tecnologie. Sul tema del cloud c'è stato uno scambio molto intenso su che cosa definiamo cloud sovrano e cosa è la sovranità rispetto al paese, cioè all'Italia o alla Francia, rispetto all'Europa e rispetto al resto del mondo. Devo dire che la soluzione che noi abbiamo scelto e di cui posso parlare, ma non posso dire la soluzione perché non è ancora scelto, è stata molto ispirata anche dal cloud sicuro francese, sia pure diversa. In termini più ampli abbiamo comuni obiettivi di gestire in maniera equilibrata e fare per tutti la concorrenza nel settore digitale tra piccole e grandi imprese o grandi piattaforme e piccole imprese locali senza essere punitivi nei confronti delle grandi piattaforme, le quali sono grandi e devono semplicemente, diciamo, usando una metafora poco elegante ma che credo spieghi bene, insomma sono elefanti in cristalleria, sono molto grossi le cristallerie all'Europa, gli elefanti sono loro, le regole nuove sono regole del DMA e del DSA proprio perché si muovono con una certa cautela. Devo dire che su questo siamo molto alleati con la Francia, lo scambio è stato molto forte. Su quello che è invece la realizzazione dei servizi di amministrazione pubblica, diciamo che gli obiettivi sono gli stessi, di identità digitale, di pagamenti eccetera. Devo dire che per certi versi loro sono molto più avanti sulla parte della salute digitale, hanno avuto un maggiore ricorso al privato e un maggiore coraggio, se vogliamo, nell'aprire le loro piattaforme, diciamo di aprirsi a piattaforme esterne, noi siamo un po' in partenza. Sulla parte dei servizi invece di cittadinanza digitale, quindi speed, identità, domicilio digitale eccetera, devo dire che non siamo particolarmente indietro. Su tema dell'illigenza artificiale invece devo dire che non abbiamo seguito tantissimo la cosa, diciamo, con i francesi, nel senso che questo è un progetto condiviso tra, diciamo, il nostro Ministero, il Mise e il Ministero della Ricerca. La parte ricerca è chiaramente nelle mani della Ministra Messe, quindi non l'ho seguita. I discorsi fatti con i francesi da parte nostra sono stati più orientati al tema start-up e come creare come creare l'ecosistema, l'ecosistema, diciamo, di sfruttamento che non la parte di sviluppo eccetera. Però devo dire che appunto col cambio di governo eccetera stiamo aspettando anche che arrivi, diciamo, la nomina della nuova persona. Devo dire che l'impressione è che su questo potremmo avere qualcosa da imparare dai francesi perché obiettivamente hanno saputo creare un ecosistema di start-up e scale-up, diciamo, probabilmente 3-4 anni in anticipo rispetto a noi. Questa è un po' la mia valutazione. Quindi... Una domanda. Lei ha giustamente fatto riferimento al dato che Italia e Francia sono i pilastri di un sistema spaziale europeo. Una notazione puramente, come dire, di percezione. È una cosa di valenza strategica di cui non so quanto l'opinione pubblica italiana sia consapevole. Secondo me c'è un problema di informazione, di comunicazione su questo fronte che andrebbe molto sviluppato. Ma a parte questo, qual è il rapporto tra, diciamo, e naturalmente questo è un settore strategico, diciamo, penso per esempio a tutta la riflessione, alla proposta macroniana che poi è entrata nel dibattito europeo dell'autonomia strategica europea. L'autonomia strategica europea ha dei pilastri, questo è uno dei pilastri fondamentali dell'autonomia strategica. Ecco, di fronte a questa, diciamo, presenza, qual è il rapporto con gli altri player principali a partire dagli Stati Uniti? Ma allora, magari faccio un passo indietro sulla sua domanda per spiegare e poi. Allora, è chiaro che autonomia strategica si ottiene quando tutta una filiera è coperta. Quindi noi possiamo avere l'ambizione di avere, dico per dire, un sistema di navigazione e posizionamento autonoma indipendente, quindi Galileo, quindi qualche cosa che sia, tra virgolette, alternativo o complementare a GPS, ma non basta quello, perché per averli in aria bisogna portarli in aria dei satelliti, bisogna fare i servizi, bisogna portare i satelliti in aria, bisogna avere le basi da cui lanciare i satelliti. Quindi la filiera è molto lunga e anche se abbiamo magari in Europa delle grandi eccellenze in alcuni segmenti dei servizi, poi però a volte non abbiamo tutto dietro. Quindi se si parla di autonomia strategica, bisogna occuparsi di tutto. Il che, nella mia definizione, io amo la parola autonomia più della parola indipendenza, perché autonomia poi può voler anche dire fare degli scambi, vuol dire anche integrare le nostre competenze con quelle degli alleati, con quelli di paesi like-minded, come si dice adesso in inglese, che si complementano e si aiutano a vicenda. Quindi questa è un po' la filosofia. Ed è chiaro che quindi la collaborazione Italia-Francia e la disponibilità di basi di lancio, che è quello a cui ho fatto riferimento con la mia citazione di Curul nel discorso, è molto importante. Qual è la situazione? Beh, la situazione è che, come ho detto, sostanzialmente oggi i grandi vettori sono o italiani o francesi. Ci sono poi i micro lanciatori, che è tutto un segmento nuovo, dove ci sono altre ambizioni europee, quelle dai tedeschi, anche gli inglesi, anche altri paesi minori stanno sviluppando delle ambizioni. Però dobbiamo ricordarci che un micro lanciatore, per quanto possa essere attraente dal punto di vista della facilità operativa. C'è un'impresa, peraltro, con una presenza forte, diciamo, di management italiano, che ha portato un satellite in aereo alla base di lancio. Ecco, è molto bello, sicuramente vuol dire che è piccolo ed è portabile, non è che porta molto peso nello spazio. Quindi se si vuole fare costellazioni da 700, 800, 1.000, 1.500, 2.000 satelliti, ci vogliono vettori importanti. Quindi però diventa molto importante avere i vettori, Ariane e Vega, ma avere anche le condizioni economiche, proporzione liquida, riutilizzabilità, che li rendono economici su questi numeri di lanci enormi. L'ambizione congiunta italiana e francese è, attraverso il sistema Vega-Ariane, di avere al contempo sia il volume, sia i costi. E qui è una sfida che ovviamente è forte, perché, riferendomi alla seconda parte della sua domanda, il sistema americano ha un soggetto privato molto aggressivo, probabilmente anche un po' sussidiato nei suoi costi, che però ha raggiunto delle posizioni di costo molto attraenti. E ha una flessibilità di lancio in termini di basi maggiore della nostra. Quindi credo che, di nuovo, noi dobbiamo guardare agli Stati Uniti come un partner, un partner col quale sviluppare alcuni elementi di questa autonomia, ma è fuori di dubbio che dobbiamo comunque avere capacità di lancio e possibilmente anche qualche flessibilità nelle location da cui si lancia, per avere anche della sostanza poi negoziale. E questi sono i due elementi, credo, più delicati. Sullo sviluppo del liquido e della riutilizzabilità è una questione di soldi e col PNRR, come ho detto, abbiamo messo le risorse e poi di non duplicare gli investimenti europei. Quindi l'European Space Agency è un importante punto dove realizzare questa cooperazione. L'Italia e la Francia possono essere i pilastri di questa cooperazione. Abbiamo detto e continuiamo a ripetere che siamo aperti a qualunque altra contribuzione europea. Ormentini. Grazie Presidente e grazie Ministro. Io sono convintissimo che lo spazio sia uno dei punti fondamentali della cooperazione bilaterale Italia-Francia e anche forse quello che davvero viene citato anche come simbolo già di una integrazione tra i due Paesi. però le chiedo, si sente lei di smentire le voci critiche che ipotizzano in futuro una forma di controllo sul sistema industriale italiano da parte della Francia, proprio in questo settore? Si rischia che sia la Francia a guidare in Europa questo settore, così come anche in quello della difesa o si può ipotizzare una doppia guida italo-francese? Lei ha detto con molta chiarezza che Italia e Francia sono i pilastri in questo settore della cooperazione aerospaziale, però spesso vediamo che la Francia ha un ruolo preeminente. Quindi ben venga l'accordo, ben venga l'autonomia strategica, accennava anche ai booster e motori P120C quali accordi commerciali nel dettaglio ci sono sull'utilizzo e soprattutto saranno utilizzati a un prezzo conveniente per la nostra industria. Una curiosità personale, c'è l'impegno al rilancio della base di Curu, ma ne avevamo una anche noi a Malindi, la base Broglio. Ecco, sarebbe bello però in prospettiva riportare anche quella base in vita. Allora, la ringrazio per la domanda e poi tra l'altro il consigliere Firpo mi ricorda anche di parlare di esplorazione, che è un elemento che non ho toccato. Allora, il rapporto con la Francia, pilastri... è chiaro che quando diciamo che l'Italia e la Francia sono due pilastri, se devo essere ancora un po' semplicistica nelle mie descrizioni direi che la situazione di partenza è che la Francia è un pilastrone e noi siamo un pilastro, cioè nel senso siamo due pilastri ma uno è molto più grosso dell'altro perché storicamente... quindi questo dobbiamo ricordarcelo. Io vorrei fare, appunto, ricordare che questo Governo ha deciso col PNRR di raddoppiare il livello dei nostri investimenti esattamente in quell'ottica. Però, vede, in quell'ottica, onorevole, non è che vogliamo andare a duplicare quello che... non possiamo andare a duplicare quello che la Francia fa, dobbiamo cercare di investire nelle cose che rafforzino, diciamo, il sistema italo-francese e il sistema europeo, ma non duplicando. Quindi, come ho detto, in alcune aree specifiche andiamo a rafforzarci in maniera, diciamo, coordinata con i francesi, in altre, come nell'osservazione della Terra, abbiamo messo invece delle risorse molto importanti che ci fanno avere la prima costellazione, la più grossa costellazione europea, sarà quella italiana. C'è una visione a lungo termine qua di, appunto, far diventare tutti e due due pilastroni ma evitando sovrapposizioni e sprechi. Non dimentichiamoci, come ho detto, che dall'altra parte dell'oceano c'è qualcuno che è molto efficiente, molto imprenditoriale e col quale non possiamo permetterci duplicazioni. Posso smentire il controllo? Io posso dirle che l'ambizione è proprio quella che dice lei, cioè di avere una situazione di co-leadership in cui, in diversi punti di forza, italiani e francesi investono e assieme tirano, diciamo, il carro. Doppia guida. Le doppie guide sono complicate ma alla fine nella vita ci sono, cioè vuol dire Airbus è un esempio di addirittura più che doppia guida. Ci sono esempi, beh, noi stessi, come ho detto, nello spazio già oggi abbiamo la doppia, diciamo, guida incrociata di Tales, c'è ST Mitro Electronics che è un altro caso di doppia guida. Quindi le doppie guide sono complicate però in settori complicati avere due piloti, un po' come nei rally, poi è importante scambiarsi ogni tanto i ruoli. Sul discorso della base di Curu, allora, Curu è Curu, il vantaggio di Curu li conosciamo tutti, è territorio francese, quindi europeo, eccetera, eccetera. Ma l'Indi purtroppo non è così, non è territorio italiano, purtroppo sono cambiate le leggi, le acque territoriali non sono più dove erano una volta, quindi è territorio diverso e quindi il suo punto è validissimo. Dobbiamo cercare, come ho detto peraltro prima, stiamo cercando altre alternative e da altri, diciamo, luoghi di lancio che abbiano caratteristiche, anzitutto quelle di collocazione e fisiche, ma anche quelle giuridico-amministrative che permettono poi di essere una cosa vera. Ma l'Indi ha tante difficoltà, oltre a un costo eventualmente enorme, ma ha tante difficoltà da quel punto di vista. Però, diciamo, è lì, l'abbiamo, la stiamo utilizzando per alcuni, diciamo, elementi di servizio, accessori e valuteremo ricerca e altre cose. Mi ricordavano che nella mia precedente risposta non ho dato abbastanza importanza alla parte, invece, di collaborazione con gli Stati Uniti sulla parte esplorazione, che invece è importantissima ed è tanto più importante adesso che ci sono stati gli eventi di Ucraina e Russia e quindi c'è, diciamo, il ritiro della componente russa da queste esplorazioni. Qui ci sono due direttrici. La prima, su cui come Italia siamo molto presenti e personalmente abbiamo cercato di dare un impulso anche a questa, è della parte della Luna. Quindi, un po' perché abbiamo grandi competenze italiane, ma tutta la parte di moduli, tutta la preparazione, diciamo, dello sfruttamento e delle missioni cislunari è sicuramente una priorità strategica. E qui la collaborazione con la NASA è ottima. Abbiamo poi anche collaborazione con la NASA sul fronte Marte. Questa è l'area che in questo momento è in corso di ripensamento, perché ovviamente il venir meno della componente russa deve farci rivalutare che cosa vogliamo, possiamo e ci possiamo permettere anche di fare. Ecco, in questo sicuramente la collaborazione, diciamo, l'autonomia non è neanche pensabile. Quindi qui chiaramente siamo tutti assieme e si lavora tutti assieme. In prima battuta per la scienza e in seconda battuta per definire quella che sarà poi la cosa. Io personalmente, noi come Governo, abbiamo dato veramente un po' più impulso alla componente lunare, perché è più immediata ed è più vicina a quello in in cui le imprese italiane eccellono. Grazie. Ci sono colleghi da remoto? No? Va bene. Allora possiamo considerare esaurita l'audizione. Io ringrazio molto il Ministro. Lei, Ministro, ha letto un testo. Se possiamo avere il testo? Un po' cambiato. Sì, insomma. Possiamo avere questo, una traccia che lei ritenga, come documentazione anche utile poi per il dibattito che dovremo avere in aula nelle prossime settimane. Grazie molte ancora della sua disponibilità. Grazie mille a tutti. L'Ufficio di Presidenza, quindi prego i colleghi dell'Ufficio di Presidenza di rimanere collegati. Perfetto. Grazie, buon lavoro a lei. L'Ufficio di Presidenza, grazie ancora. Ciao.